di conad oltre al prezzo vi garantiamo sempre la qualità che non teme confronti per la tua spesa dai prodotti freschi a quelli per la cura della casa e della persona nella nostra linea bagno conad essenzie la delicatezza è di famiglia ogni giorno vi offriamo centinaia di prodotti indispensabili a prezzi bassi e fissi come il nostro bagno doccia rilassante conad essenzie con estratti naturali la migliore qualità a 1 euro e 70 bassi e fissi qualità e convenienza che non temono confronti la città vivrà un pochino più l'atmosfera ma è già bello adesso io questa immagine di Sanremo io sto bene quando venga a Sanremo mi sento a casa mi piace sarà che ci venivo anche da ragazzo come te a fare le interviste quindi mi sento a casa e vedere camminare stamattina sono voluto venire a piedi dall'albergo e vedere di nuovo tanta gente per strada è una cosa bella è chiaro che questo l'anno scorso io camminavo in una Sanremo vuota